cari amici di city report oggi una flash da via valtellina e via limitrofe come via della prica ecco proprio qui troviamo i primi grandi disagi delle persone che dormono sotto dei porticati col freddo e con la pioggia non curanti di tutto quello che possa accadere per poi spingerci più avanti continuando con i rifiuti abbandonati lungo tutta la strada il materasso e lo scavalco che avviene da questo lato è il futuro che cosa ci riserverà ci sono state dette tante belle parole abbiamo letto tanto dei giornali del planning futuro dei futuri lavori e speriamo che tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile